L'8 dicembre si aprirà ufficialmente il Giubileo, un evento che dopo i fatti tragici di Parigi e la minaccia del terrorismo islamico accresce le misure di sicurezza nelle città. Tutte, nessuna esclusa e se da un lato la capitale è il cuore delle celebrazioni, dall'altro si punta a rafforzare tutti quelli che sono definiti canali di snodo o passaggio internazionale, come ad esempio l'aeroporto. Ecco perché è stato annunciato l'arrivo di uomini dell'esercito che a partire dal lunedì 7 dicembre presideranno lo scalo aeroportuale di Pescara. Un'attività predisposta a livello centrale in tutte le regioni e le città d'Italia, si sta attuando un sistema di controllo integrato anche oltre che in ambito provinciale, in ambito regionale e in ambito nazionale. Per cui l'arrivo dei militari in ambito aeroportuale di frontiera, zona di frontiera internazionale, servono a darci un pochettino più di respiro in quanto faranno dei servizi a cui eravamo devoluti noi. Per cui possiamo fare altro di più, approfondire più i controlli ed essere più sereni sulla vigilanza. Le misure di sicurezza prevedono controlli per le auto in entrate e in uscita dalla città, controlli e presidi presso la stazione centrale, così come i terminal bus, e cioè tutti quegli snodi che possono permettere l'ingresso di un numero ingente di persone provenienti anche da molto lontano. Stazione ferroviaria, stazione di pullman, uscita autostradale, in ambito autostradale, in ambito cittadino, un po' dappertutto. Infine un invito alla calma per evitare allarmismo inutile e controproducente. Un giusto allarmismo fa bene, nel senso che deve generare segnalazioni che arrivano alle forze dell'ordine. Un allarmismo esasperato penso che non sia utile a nessuno, crea soltanto grande tensione e basta, si vive male.